eccoci buongiorno bentornati o benvenuti su rcs 75 oggi sabato 13 giugno ore 15 questa cultura digitale programma di tecnologia e marketing di rcs 75 io come sempre sono giuseppe noschese e con me c'è sempre il simpaticissimo e attivissimo marco autori ciao marco grazie giuseppe grazie buongiorno a tutti ragazzi allora anche oggi vi terremo compagnia in questa giornata caldissima diciamo che l'estate è ormai partita alla grande era repotente vi ricordiamo le coordinate che trovate qui qui sotto per ascoltare un po di musica per farvi compagnia insieme a noi quindi se volete tenere un po di compagnia con la musica vi ricordo che se avete perso le altre puntate di cultura digitale potete riascoltarle sulla pagina di radio castelluccio rcs 75 oppure potete cercarle per cercare il podcast in versione short su spotify google podcast o sui miei profili social ovunque siamo 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 ovunque oggi marco andremo torneremo in compagnia di un libro giusto ci sia assolutamente un bel libro perché diciamo la nostra mission è diffondere culture quindi nel nel business nel marketing è un libro oggi molto molto interessante che ci fornisce un approccio proprio un metodo per creare innovazione e business un business di successo senza sprecare risorse quindi senza sprecare budget ma nel libro di oggi è partire leggeri vuol dire che dovete mangiare poco ragazzi partire leggeri il metodo in startup innovazione senza sprechi per i nuovi business di successo è di eric rice stato scritto pubblicato nel 2012 da parte edito da parte di rizzoli e crise è un consulente di di startup e di aziende l'imprenditore seriale quindi di di business ne sa un bel po ed è anche uno speaker di fama mondiale che grazie alle esperienze lavorative che ha fatto elaborato appunto questa metodologia lean startup pensate che questo libro è stato tradotto in ben nove lingue ed è praticamente uno dei best seller del settore un'altra un'altra bibbia del marketing credo che questo testo sia immancabile per chi fa impresa per un imprenditore chi vuole lanciare un'idea in fase di startup sono 300 pagine dove viene appunto mostrato questo metodo questo approccio per sviluppare appunto un progetto attraverso il metodo lean startup l'idea alla base del metodo e di adattare il prodotto quindi quello che vogliamo realizzare alle esigenze dei clienti quindi attraverso la sperimentazione sul campo quindi apprendendo praticamente da da quelle che che sono le applicazioni sul campo quindi sbagliando e apprendendo dagli errori il perché di questo metodo nasce appunto dall'analisi del dell'approccio della maggior parte degli imprenditori che ancora oggi capita seguono un flusso errato che mette a rischio l'idea di business che cosa succede marco in effetti spesso allora noi spesso noi ne sappiamo qualcosa giuseppe perché abbiamo fatto abbiamo avuto la fortuna di fare con non voglio fare i nomi con tante persone team eccezionale per tre anni abbiamo fatto lo startup weekend di salerno dove spesso capitava che le persone che presentavano le idee i ragazzi che presentavano le idee si innamorassero dell'idea letteralmente no pensando che l'idea fosse fantastica che non che quando vedrà la luce sul mercato tutti lavoreranno e questo è il mondo delle startup che nel mondo delle startup è molto frequente come diciamo tra virgolette errore e cosa succede cioè succede che ci si putta a capofitto nella realizzazione di questa idea prodotto il servizio investendo del budget per realizzare un sito oppure di commerce o un'app dove andiamo a coinvolgere anche delle persone quindi andiamo a coinvolgere delle risorse che dobbiamo comunque pagare ok e quindi investiamo nel marketing per andare sui città ma poi che succede succede che fondamentalmente nessuno nessuno si gira la nostra idea che a nessuno interessa il nostro prodotto e quindi automaticamente prendiamo un paro in faccio investito dei soldi e abbiamo perso nel frattempo è passato del tempo e quindi abbiamo sprecato praticamente un'occasione è l'errore che che ha osservato appunto l'autore che è proprio un approccio sbagliato cioè perché abbiamo dato per scontato che la nostra idea fosse valida quindi tutti stessero aspettando quella roba e ci concentriamo appunto sul creare il prodotto lo facciamo perfetto lo facciamo bellissimo spendiamo soldi tempo e poi ci accorgiamo che avevamo avuto una percezione errata quindi attraverso l'analisi di questa dinamica ha capito l'autore che bisogna cambiare approccio quindi bisogna partire più rapidamente ma in forma leggera quindi un prodotto che testi il mercato e quindi validi quella che è la nostra idea quindi prima di realizzare il prodotto in tutto e per tutto dobbiamo capire se effettivamente qualcuno se lo se lo vuole comprare il suo prodotto o questo servizio e quindi la regola è cercare di vendere almeno un prodotto quindi capire se qualcuno è effettivamente interessato quindi per fare ciò dobbiamo simulare che tutto sia funzionante ma senza doverlo sviluppare realmente nella sua completezza andiamo a scoprire in che cosa consiste questo approccio e come metterlo in pratica prima di entrare nel dettaglio del del metodo vediamo quali sono gli elementi per applicare il metodo in marco quali sono ora sono la vision prima di tutto poi c'è l'ipotesi di ipotesi fiduciaria e poi ci sta il minimo prodotto fallibile o minimo un verbo il product mvp praticamente in gergo start a pano anche andiamo lì a vedere uno a uno la visione sostanzialmente è alla base del pensiero dell'imprenditore della dell'azienda quindi è una proiezione del del futuro quindi deve deve rispettare gli ideali delle aziende non gli obiettivi di business qui ci sono un esempio qui sono degli esempi quello di microsoft ad esempio che magari la sua vision è quella di un pc per ogni scrivania ok oppure disney è quella di divertire le persone ok quindi quindi non è vendere un pc o un ticket d'ingresso è una conseguenza quindi esattamente mentre le ipotesi fiduciari e rappresentano quella che la scommessa dell'imprenditore quindi serve a comprendere le ipotesi su cui basare il progetto si dividono in due che sono l'ipotesi di valore quindi ci serve a capire appunto se il nostro prodotto o servizio offre valore ai clienti quando lo usano è l'ipotesi di crescita quindi ci serve a capire come i clienti scopriranno il nostro prodotto servizio per poi arrivare a quello che anticipavi tu marco che è il minimo prodotto fattibile che è praticamente è un embrione nella forma ridotta mpf o mvp e quindi è un prototipo che ci serve appunto per verificare queste ipotesi quindi creiamo le ipotesi andiamo sulla base di queste ipotesi a creare un prototipo minimo che ci permette di andare a validare il mercato quindi per capire appunto se qualcuno è disposto a comprarlo io ad esempio mi 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 aggiungo a questa cosa tu come ben sai io ho fatto start up insieme al mio carissimo amico mario dell'ibobi abbiamo abbiamo fatto dei progetti e purtroppo noi abbiamo investito non avendo fatto che se l'abbiamo investito non abbiamo valutato magari i rischi le cose quindi abbiamo sprecato risorse abbiamo spiegato soldi e tutto è quello che vi dico ragazzi avete la fortuna di avere giuseppe che vi sta dando diciamo delle delle crisi che sta spiegando che altrimenti dovete leggere meno qua c'è più o meno un'idea di cosa andate incontro a cosa andate incontro quindi marco andiamo a vedere un po questo questo metodo in start up e naturalmente c'è questa parola start up ma in realtà è stata può dire avviare avviare un'impresa avviare un business quindi va vale ovunque quindi non è legato solo a qualcosa di giovane dedicato a giovani è valido per tutti gli imprenditori quindi è un approccio cioè un modo di di approcciare attraverso questo questo metodo appunto l'in start up quindi partendo dall'idea che abbiamo visto tutti gli elementi che abbiamo visto prima per approcciare diciamo al per approcciare appunto al metodo l'in start up il metodo l'in start up si basa salutiamo claudio felissimo che ci segue ciao l'audio e si basa su un processo che è ciclico e definito cm a quindi è composto da tre elementi che sono creazione misurazione apprendimento alla creazione andiamo a vedere un attimino un poco poco nel dettaglio poi lo farai tu un pochino più approfondito è praticamente creazione quindi del prodotto minimo fattibile quello che abbiamo detto fino adesso mbp poi misurazione quindi delle ipotesi fiduciari che abbiamo fatto e raccolto dei dati e poi c'è l'apprendimento attraverso l'analisi dei dati raccolti imparare dai propri errori apportando modifiche per migliorare il prodotto e adattarlo ai desideri dei clienti ok quindi è ciclo questo è un ciclico è un ciclo che non finisce fin tanto che non troviamo appunto il mix per la quadra esatto esatto in questo approccio diciamo in questo processo è importante andare a definire quelli che sono degli indicatori di performance quindi quelli che vengono chiamati che via io comunque sono dei numerini che ci dicono se l'esperimento sta andando bene oppure oppure no qualche indicatore interessante che potremmo mettere all'interno di questo processo è la redditività del cliente quindi quanti soldi ci sta portando quanto ci costa portare un cliente all'acquisto oppure qual è la percentuale di riacchi di riacquisto di questo di questo utente quindi le andiamo a definire prima di avviare avviare tutto quanto andiamo nel dettaglio quindi andiamo a vedere la fase di creazione e la fase di creazione come abbiamo anticipato ci serve appunto per creare questo famoso mvp quindi prodotto prototipo che ci permette appunto di andare sul mercato e raccogliere iniziare raccogliere dei dati ma come si fa sta roba concretamente possiamo farlo attraverso degli strumenti e degli approcci uno diciamo che è molto simpatico e molto famoso è lo smoke test quindi è un metodo che ci consente di capire se c'è mercato per un determinato prodotto servizio e quindi se c'è abbastanza richiesta da giustificarne lo sviluppo e la creazione quindi viene da sé che non esiste ancora nulla non esiste nessun prodotto non esiste nessun servizio quindi possiamo usarlo appunto per testare un modello di business un prodotto una caratteristica di un prodotto una funzionalità del prodotto e lo smoke test consiste nel creare appunto questo prototipo che poi sarà il prodotto reale se i feedback che andremo a ricevere rispetto al prodotto saranno positivi allora varrà la pena realizzarlo per ottimizzare e velocizzare tutto questo processo lo possiamo utilizzare in combinazione con quello che è uno split test ovvero testare contemporaneamente più elementi ad esempio possiamo testare diverse versioni del prodotto oppure cambiare una caratteristica tra un test e l'altro o cambiare il prezzo tra un test dell'altro oppure la modalità di pagamento tra un tra un test dell'altro oppure un consumo un consumatore rispetto un altro vogliamo fare un esempio marco per esempio c'è un esempio veramente penso che conosciuto un po ovunque che quello di dropbox se non lo conoscete dropbox è un software che vi permette di mettere in cloud cioè quindi mettere uno spazio virtuale sul web i vostri file sincronizzarli su più dispositivi quindi pc tablet smartphone e condividerli con altri con altre persone quindi anche in un team ci usa molto per lavoro io lo uso personalmente e diciamo che dropbox è nata proprio attraverso questo questa diciamo questa tecnica di smoke test cioè cosa hanno fatto gli amici di dropbox hanno realizzato un video di un prodotto che non esisteva ancora quindi hanno raccolto delle iscrizioni degli utenti e di quelli che sono intere che erano magari interessati interessate ad utilizzare quel prodotto è una volta verificato l'interesse del mercato quindi degli utenti hanno realizzato realmente il prodotto mettendolo sul mercato cioè chiaro quindi praticamente prima ancora di realizzare il prodotto che che hanno fatto questi verificato hanno creato un video dice guarda funziona così 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 e tu metti file lì e le persone hanno visto wow bellissimo vuoi sapere quando sarà pronto questo prodotto si lasciaci la tua mail quindi hanno visto quante persone effettivamente fossero interessate quindi poi con un dato reale hanno detto cavolo ci sono tante persone interessate allora facciamola sta roba quindi è un possibile approccio un altro metodo che diciamo è molto legato a questo è il sell before you build quindi una variante di dello smoke test che ha una dinamica molto molto simile il prodotto non esiste ancora e si crea un prodotto di quello che sarà il prodotto finale con una leggera differenza in questo caso addirittura ci facciamo pagare prima ancora che il prodotto venga creato che bello a risolvi un esempio bellissimo è quello dell'approccio è l'approccio in cui si basano le piattaforme di crowdfunding come kickstarter cioè viene realizzato un video dove viene definito il prezzo per la prevendita diciamo del prodotto e se si raggiunge un tetto minimo di compratori viene sviluppato e messo sul mercato quindi in pratica funziona che se non si raggiunge l'obiettivo prefissato i soldi ai clienti vengono restituiti rispetto allo smoke test che abbiamo detto in precedenza offre un livello di validazione molto maggiore in quanto l'azione è l'acquisto quindi abbiamo una metrica abbastanza validissima acquisti 100 prodotti e arrivi al diciamo a quello che è l'obiettivo dice ok va bene ma produce ed è diventato diciamo un approccio utilizzatissimo di questo punto di vista prima era molto americano oggi anche in italia da fare un grandissimo lavoro dietro e giuseppe si racconti una campagna di crowdfunding comunque però è un approccio che può sembrare cioè magari uno se se sente sto testice ma allora dobbiamo truffare la gente no no è tutto molto trasparente tutto molto chiaro quindi è un modo proprio per capire io sto prodotto lo faccio o no cioè ne vale la pena quindi un altro metodo che possiamo utilizzare è il concierge test cioè che consiste nel testare il prodotto su un cliente specifico quindi costruendo intorno a lui la soluzione in base alle sue esigenze quindi ci concentriamo su un cliente e non andiamo a sviluppare anche in questo caso il prodotto però facciamo tutto manualmente andiamo ad emulare quello che poi andremo ad automatizzare all'interno del nostro prodotto in questo percorso che appunto facciamo in compagnia del nostro potenziale cliente quindi noi lo validiamo su un cliente e poi se funziona se quel cliente è soddisfatto poi lo replichiamo su su altri clienti e lo lo espandiamo lo facciamo crescere ci permette di capire appunto sì quello che volevamo fare corretto è scalabile quindi poi ci ci farà guadagnare anche in questo caso marco un esempio un esempio un esempio oggi stiamo dicendo tantissime brutte parole giuseppe tante tante continuiamo ad esempio c'è food on the table che praticamente un servizio che voleva dare ai propri utenti ricette semplici da cucinare su base settimanale eh insieme alla lista della spesa confezionata per acquistare gli ingredienti in un negozio nella loro zona il CEO diciamo non aveva né tempo né risorso ovviamente per costruire una piattaforma e e ne avrebbe e non avrebbe neanche saputo come come riempirla ovviamente eh e cosa ha fatto è partito da un solo negozio eh di alimentari cinque ingredienti e venti ricette in tutto quindi tre cinque per ogni ingrediente per verificare che effettivamente i suoi clienti comprassero al negozio da lui indicato e trovassero utile il suo diciamo servizio poi ha aggiunto progressivamente altre ricette altri ingredienti altri negozi e altri quartieri e man mano che acquisiva consapevolezza e comunque il suo prodotto a alle persone era un reale bisogno per le persone eh diciamo ha continuato e l'ha implementato realmente quindi alla fine eh ha emulato quello che che era il servizio eh su eh una una parte di clienti quindi su una una minima una minima parte di clienti è un eh una minima parte di partner a disposizione e di eh di prodotto di servizio a disposizione servizio in quel caso era il test e eh ha visto che effettivamente le persone interessate quindi c'ha fatto un negozio scaliamo facciamolo su due su tre su cinque su dieci negozi su n ricette quindi questo è un po' la l'approccio un altro metodo un altro metodo è il wizard of odds test quindi il test del mago di di odds sostanzialmente quindi questo test eh consiste nel creare un falso prototico quindi che assomiglia in tutti in tutto e per tutto a quello che è il prodotto e il servizio finale ma non c'è nulla proprio cioè non non esiste eh e viene emulato totalmente quindi l'utente si trova davanti al prodotto eh reale eh e sembra che funzioni tutto ma dietro ci saremo noi a fare tutto manualmente quindi creando appunto l'illusione come se fosse eh come se fosse per magia per facilitare anche la differenza rispetto al conserge test anche qui Marco facciamo un esempio che è è reale eh chi ha fatto una roba del genere è c'è l'applicazione un esempio di applicazione su questo test è Zappos che è praticamente il sito di commerce di calzature uno dei più grandi diciamo noi non lo so se lo utilizziamo però anche nella sua prima embrionale versione era semplicemente una vetrina con scarpe fotografate da negozi vicini vicini agli uffici che sembrava a tutti gli effetti un sito di commerce di scarpe da grandi marchi l'obiettivo era proprio vedere se gli utenti avrebbero comprato le scarpe online prima di mettere in piedi tutta l'infrastruttura e comprare i prodotti fisicamente esatto esatto diciamo che qui se non ricordo male parliamo del 1999 quindi queste erano abbastanza pionieristici ah eravanti proprio quindi loro prima di fare l'e-commerce prima di comprare le scarpe prima di fare tutto quanto che cosa hanno fatto? sono andati dai negozi che vendevano calzature sono andati là sono messi a fare le foto e le hanno caricate per vedere appunto se qualcuno era disposto a comprare quelle scarpe effettivamente quindi prima di fare tutto quindi hanno visto che effettivamente non c'era l'e-commerce c'erano tutti i passaggi manuali c'era una persona dietro che andava a smistare a smazzare tutto quanto e quindi visto diciamo l'efficacia di questa cosa a quel punto hanno deciso di implementarlo e sono diventate una delle piattaforme più grandi al mondo quindi Zappos è famosissima soprattutto fuori dall'Italia è molto molto utilizzata allora andiamo avanti abbiamo fatto questa parte di creazione dobbiamo come detto prima dobbiamo misurare quindi l'aspetto fondamentale del metodo è la misurazione perché ci permette di capire che cosa fare se le cose che stiamo facendo stanno andando nella giusta direzione quindi qualsiasi attività, qualsiasi strategia, qualsiasi cosa noi facciamo rispetto al progetto deve essere misurabile in altre parole deve confermare o smentire l'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio questo ci dà la possibilità di apprendere e quindi di conseguenza andare a migliorare o cambiare qualcosa per fare questo dobbiamo definire quello che abbiamo anticipato prima, gli indicatori solitamente sono 5 o 6 e ci aiutano a prendere delle decisioni rispetto a quelli che sono gli esperimenti che stiamo svolgendo attenzione alla scelta degli indicatori perché devono avere delle caratteristiche specifiche che sono Marco? allora c'è quello là traducibili in azione ovvero dimostrare una causa effetto abbiamo fatto questo ed è successo questo gli accessibili ovvero devono essere comprensibili da tutti i membri del team e poi ci sono i verificabili ovvero devono essere verificabili manualmente con i clienti quindi questi requisiti devono essere presenti perché se non sono presenti in quegli indicatori che andate a definire tutti e tre devono essere traducibili in azione, accessibili e verificabili perché se non lo sono, se quel numero non rispecchia queste caratteristiche allora stato osservando un numero che è un indicatore di vanità quindi i like del post cioè non ci aiuta a diciamo verificare qualcosa con il cliente quindi dobbiamo andare a decidere quali sono effettivamente gli indicatori validi siamo arrivati al bivio svoltare o insistere una volta che abbiamo misurato e abbiamo appreso qualcosa da questi dati un imprenditore di successo che non si deve innamorare mai della sua idea deve comprendere quando è il momento di cambiare quindi ragazzi stiamo andando verso il baratro dobbiamo cambiare qualcosa quindi oppure se le cose stanno andando bene dobbiamo insistere, dobbiamo continuare in questa direzione i dati raccolti nella fase di misurazione appunto ci devono aiutare a capire se abbiamo raggiunto dei risultati tangibili se così non è allora occorre svoltare, cambiare e tornare da capo quindi creare nuove ipotesi da validare e quindi ricominciare il ciclo questo non vuol dire affatto buttare via quello che abbiamo fatto anzi non è un fallimento è proprio il segreto di questo approccio ottimizzare e migliorare evitando di sprecare risorse quindi svoltare non vuol dire fallire il cambiamento o pivot come dicono quelli bravi Marco come abbiamo detto noi sì con il nostro progetto abbiamo fatto pivot cioè dalle radio che era il progetto siamo passati al cinema esatto esatto questo è un cambiamento vedete è cambiato il mercato di riferimento proprio per evitare il fallimento questo passaggio è fondamentale nell'approccio in startup però non viene applicato nella maggior parte dei casi quando si fa impresa e allora come si fa a capire Marco quando fare pivot uno dei segnali importanti proviene dagli indicatori abbiamo detto ma vediamo qualche altro esempio che ci fa capire quando dobbiamo svoltare ad esempio quando il business non è sostenibile quindi dobbiamo rivedere le modalità di acquisizione o di pagamento ok poi una funzionalità supera di gran lunga le altre cioè quindi concentriamoci su quella lì vediamo qual è e concentriamoci su quella oppure il mercato non ha reagito come ti aspettavi che capita e quindi il tuo prodotto servizio non ha suscitato quell'interesse che ti aspettavi suscitasse chiaro oppure vieni sul classato comunque dalla concorrenza che ce n'è tanta e se qualcun altro ti supera prova comunque a concentrarti su una nicchia o un altro bisogno cioè quindi vedere sempre qual è la cercare di spostarsi esatto di spostarsi di vedere il valore aggiunto reale quale può essere perfetto e quindi la domanda che ci viene ci sorge spontanea è che cosa possiamo cambiare vediamo quali sono appunto gli esempi Marco ci ha già anticipato qualcosina però vediamo alcuni esempi che possiamo applicare all'interno del nostro progetto un cambiamento è lo zoom in pivot cioè quando la funzionalità appunto come diceva Marco del tuo prodotto genera più interesse rispetto ad altro quindi noi abbiamo fatto un prodotto che ha n funzionalità ma vediamo che le persone amano nello specifico una funzionalità e allora perché andare a sviluppare in parallelo anche le altre concentriamoci su quella facciamo un prodotto che abbia solo quella funzionalità oppure Marco quello è il zoom out pivot cioè praticamente in questo caso il prodotto è povero di funzionalità e quindi se ne aggiungono altre per soddisfare le esigenze dei clienti è l'opposto praticamente andiamo ad aggiungere perché è povero di funzionalità gli clienti vogliono altro e quindi noi andiamo a sviluppare altro e lo rendiamo più ricco un altro esempio è il customer segment pivot quindi se il gruppo di persone sul quale ci siamo focalizzati per il test non sta rispondendo bene allora probabilmente è il caso di andare a concentrarsi su un altro gruppo di persone quindi cambiare i clienti da questo punto di vista ho ancora un altro interessante che è quello del value capture pivot che in pratica in questo caso andiamo a cambiare il modo con cui ci facciamo pagare dai clienti ad esempio regaliamo il prodotto e guadagniamo con la pubblicità ne parliamo già qualche puntata fa su questa cosa facendo degli esempi sì sì ci sono giochi che fanno così quindi app piccole app che vivono di pubblicità blog che vivono di pubblicità un altro esempio è l'engine of grow pivot quindi in questo caso ci rendiamo conto che il motore di crescita che vediamo a brevissimo che abbiamo scelto non sta funzionando non è quello giusto per il nostro progetto e quindi dobbiamo cambiarlo quindi dobbiamo scegliere un altro motore di crescita andiamo a vedere proprio che cosa sono questi motori di crescita sono principalmente tre motori di crescita cioè il motore di crescita virale e in questo caso già la parola ci anticipa un po' la dinamica il tutto avviene in maniera automatica proprio come la propagazione di un virus quindi la crescita avviene attraverso l'utilizzo del prodotto da parte dei clienti ad esempio il passaparola perché questo motore funzioni è fondamentale osservare il coefficiente virale ovvero il numero di nuovi clienti che ciascun cliente porta con sé quindi proprio come un virus sostanzialmente sì e qua c'è un esempio che credo a meno la mia infanzia ha vissuto il carissimo MSN Messenger a cui era associata l'email hotmail che grazie al messaggio che aveva diciamo in pedice la firma di ogni email che inviavi era ps ottieni la tua email gratuita e quindi tu cliccavi lì e tenevi e ti creavi questa email gratuitamente quindi tu mandavi un email leggevi sta cosa chi diceva che leggeva sta cosa creava l'email e quindi portava l'altro cliente l'ha usata Marco allora mi fido sicuramente sarà bello sta hotmail e quindi questo è un esempio poi c'è il motore di crescita sticky in questo caso ci concentriamo sulla fedeltà dei clienti e sulla loro scelta di acquistare regolarmente il nostro prodotto o servizio l'elemento fondamentale su cui ci dobbiamo concentrare in questo caso è appunto la soddisfazione dei nostri clienti cercando di tenere la percentuale di abbandono quindi i clienti che vanno via più bassa rispetto a quella con la quale acquisiamo clienti quindi dobbiamo mantenere più clienti di quelli che andiamo a fare esattamente esattamente l'esempio che si possono fare gli esempi sono in riferimento alla piattaforma che hanno un modello di abbonamento come quelle che utilizziamo noi c'è Netflix, Spotify, Apple Music, Infinity ce ne sono avvalanche tantissime tantissime e infine c'è il motore di crescita a pagamento quindi in questo caso ci affidiamo a quelle che sono le campagne pubblicitarie a pagamento questo motore naturalmente è sostenibile solo se il costo di acquisizione di un nuovo cliente è inferiore alla somma di tutti gli acquisti che questa persona effettuerà quindi sostanzialmente ci deve portare più soldi di quanti ne spendiamo per portarlo ad acquistare quindi ad acquisirlo quindi qui vabbè gli esempi Marco è inutile dire cioè stiamo parlando di motore di pagamento pubblicità a pagamento Facebook, Google, qualsiasi cosa ok siamo arrivati Marco ci avviciniamo alla fine siamo stati bravi siamo andati proprio come Italo siamo stati veloci salutiamo Claudio che ci sta proprio facendo venire la voglia di andare a fare un tuffo davvero un tuffo con un atto più blu come diceva qualcuno naturalmente è impossibile andare a racchiudere in pochi minuti tutte le informazioni 300 pagine c'è veramente tanta tanta roba dentro a questo libro quindi il consiglio è quello di speriamo di avervi interessato anche per chi vedrà dopo questa puntata quindi se conoscete qualche amico a cui potrebbe essere utile questo libro taggatelo nei commenti oggi non ho visto Marina è da bacchettare oggi Marina perché non è stata presente a questa live beh lo scriverò in privato quando finirò sarà a mare sarà a mare quindi sicuramente leggere partire leggeri diciamo 300 pagine con un approccio che è diverso dai classici canoni di sviluppo imprenditoriali quindi un testo utilissimo soprattutto per i giovani imprenditori che vogliono avviare la propria azienda e lo consigliamo perché è ricco di informazione molto semplice e intuitivo quindi ci sono molti 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 esempi e ti introduce appunto all'approccio start up che secondo l'autore ed è vero oggi è così è un modo per far crescere il tuo progetto nel modo corretto quindi diciamo che è sicuramente una lettura immancabile anzi se state a mare sotto l'ombrellone diciamo Claudio Claudio portalo a mare con te perché ti potrebbe ti potrebbe fare compagnia che dire Marco siamo siamo stati ci dobbiamo salutare purtroppo sì ci dobbiamo salutare perché fra poco abbiamo ci sta sempre la nostra amica Rossella Grazioso che avrà una bellissima ospite Erika Noschese guarda un po' di Dele Noschese quindi c'è proprio questa c'è una continuità c'è una continuità è una parente tua per caso no è che io sappia no quindi beh ma io ho tanti cugini che non conosco caro Giuseppe che probabilmente potrebbe essere magari cugini di ottavo grado magari siete cugini Erika vediamo cioè andiamo a controllare l'albero andiamo a controllare l'albero magari c'è c'è qualche qualche zio pro nipote chi lo sa parleranno di difesa dell'ambiente amore per gli animali quindi sarà una bello un bel tema molto molto interessante quindi restate sintonizzati qui sulla sulla pagina di Radio Castelluccio RCS 75 e noi che cosa che cosa dire Marco non ci resta che augurarvi un buon weekend non ci resta che piangere e e ci vediamo la la prossima puntata quindi di di cultura digitale ok perfetto speriamo tu ci sarai io credo di sì Giuseppe spero di sì sarai a mare non lo so però Claudio mi ha fatto venire voglia del mare non lo so se ci saremo vediamo se ci saremo dai magari la facciamo da mare l'abbiamo detto contemporaneamente siamo due pazzi va bene ragazzi grazie per essere stati qui con noi vi auguriamo buon weekend e come sempre buon digitale a tutti ciao Marco ciao a tutti ciao alla prossima ciao ciao